Oggi andiamo a bere il vino. Vogliono portare le vigne qua in Moldavia. Facciamo il Cannonau in Moldavia. Ecco, lui è stato un croce italiano. Quanto vale? Un americano ha proposto 150 mila euro e anche quattro macchine Cadillac. Crico non le hanno dato perché io... Lo potete tenere. Collezione italiana, Martini, 1900. È bello avere la casa così arredata. Ma è l'Italia, ma è la Moldavia. Che ti stai portando via le bottiglie? Sono pieni! Ma ti ha visto quella che gliel'hai fregata? Certo che mi ha visto. Mi ha dato pure il tappo. Quante bottiglie ci siamo fregati? Quattro! Se ci ferma la polizia, hai idea di quello che ci fa? No, non è reato. No, non è reato. No! 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 Grazie.